Buongiorno a tutti, allora Giubbino come sempre, Levis, poi sotto, giacchettina modello Eros Ramazzotti da Bluce Buona delle Stelle 1987, camicia nera jeans e jeans neri, ecco, serata loffia, serata veramente loffia, pizza di doppia libidina anche se purtroppo mi sono dimenticato che nella Piemontese, porca di quella miseria c'era la rucola, dunque poi ve le metterò per domani sera le pizze che ho mangiato ieri sera, quindi per questa sera avrete tutti e due i video su YouTube e su Instagram perché metterveli ormai a mezzanotte e mezza non mi sembra il caso, ve le metto per la serata di domenica così è un orario di cena, vi viene ancora più fame, quindi due pizze di libidini, una la pizza del nord e l'altra la piemontese che mi sono dimenticato di far togliare la rucola ma l'ho tolta io al volo, e poi niente siamo andati all'Eppi, lì all'arcobaleno a parte la famigliola c'era la mamma e la figlia che si poteva fare la triglia, però tanto ci pensa il paparino, quindi niente di che guardi, dici vabbè bella donna, bella figliuola e stop, arriviamo all'Eppi, speravamo, non so, un compleannino, un po' di topa, a parte le bariste, c'era cuoricina con le mogolfiere nobili, c'era la ragazza in viola e c'era trottolina che stasera si era messa in jeans, se non erro, poi l'abbiamo notata poco perché neanche il tempo di vedere la partita, vista l'enorme quantità di persone che c'erano è andata via subito, poi c'era la regina del materassabile e la biondina, ma niente di che, stranamente la biondina non era col gruppo del flambau, perché di solito è sempre col gruppo del flambè, stasera si è degnata di venire lì con il Simon, nostro amico juventino simpatico, era lì con lui a ciaccolare mentre guardava la partita, quindi veramente stasera l'unica soddisfazione è vedere gli scappati di casa che prendono tre pere, il mio gattone Miao Silvestri che ha parato il rigore, giustamente una volta che il mio portiere pare al calcio di rigore, glielo fanno ripetere, in ogni caso anche il mio avversario ha preso un gol, quindi pari, con la differenza che il mio portiere ha preso 6,5, il suo c6, quindi mezzo punto in più. Per il resto una serata veramente loffia. Sabato prossimo sarà l'ultima seratona del Gigione all'Eppi, poi se ne parlerà da dopo metà ottobre, ahimè, ahimè, fortunatamente perché inizio a trabaccar, che almeno sarà contento il Bedoni che faccio il suo stesso lavoro, mi diverto, mi stanco il giusto, riesco ad avere il tempo per farvi video su video lo stesso, basta organizzarsi, non è un problema, so che dalle 18 alle 24 sono impegnato, poi il resto lo divido tra le ronfatine e i vidiotti, e magari i pomeriggini giusto una o due volte alla settimana al Ciring House, quindi il mio hobby sarà andare al Ciringuito anziché andare all'Happy Bar, anziché andare all'Happy Bar di notte vado al Ciringuito di pomeriggio. Niente di che, tanto ormai non ho più l'età da spiaggia o roba simile, quindi non è assolutamente un problema oramai. E niente, quindi stasera, seratina così, tutto tranquillo, poi cuoricina mi ha anche detto che settimana prossima smamma, quindi la rivedrò a settembre, settembre-ottobre, anzi ottobre oramai, perché anche a settembre non è che ho il sabato libero, settembre forse avremo un giorno alla settimana libero, la metà settembre, perché andiamo in bassa stagione, e quindi una o due volte alla settimana la favola potrebbe essere chiusa una volta alla settimana, ma per il resto sarò lì, bello, felice, contento, più o meno tutti i giorni, cioè tutti i giorni senza più o meno. Vedremo, vedremo, perché di solito iniziamo a luglio, facevo dall'ultima settimana di luglio, agosto-settembre e ottobre, e invece quest'anno si inizia subito ad aprile, però la certezza ce l'avrò settimana prossima, no, tra, adesso siamo al 19-19, e sì, probabilmente chiamerò non questa settimana, quella dopo per conferma, per essere tranquilli che si inizia, quindi veramente ragazzi, stasera mi sono abbastanza depresso, però l'Udinese mi ha tirato sul morale, par condicio finalmente, giustamente, abbiamo perso 3-1 noi con l'Udinese, e abbiamo perso anche gli scappati di casa, come è giusto che sia. Il giramento di balla è stato quel somaro di Beto, che cazzo entra un quarto d'ora prima in area di rigore, una volta che il mio portiere pare un calcio di rigore. Oh, le due volte che Audero ha parato il calcio di rigore, non l'ho messo. Stasera finalmente Silvestri pare un rigore nella sua onesta e bella carriera, e glielo annullano, perché il somaro deve entrare un quarto d'ora prima su un pallone che andava in calcio d'angolo. Almeno non andarci, lascialo uscire, fai finta di niente. No. Sei entrato un quarto d'ora prima, coglione, scusate il francesismo, poi meno male ha fatto gol, mi ha fatto godere, però il mio avversario non c'ha mai di un in porta, c'ha musso, quindi un gol musso, un gol, e mi girano le balle. Era un più tre, era un più tre, e un sette garantito. Meno male che il buono d'oggi ha sbagliato il tiro e diventato un assist, anche lì, libidide. Che bello, quando sbagliano a tirare diventa un assist e dal compagno segna, più uno, tac, in più doggione sette, più uno otto, tac, e il gigione gode, il gigione gode. Va bene ragazzoli, niente, serata l'offia, speravo di raccontarvi qualcosa di bello, eccetera, invece, sì, c'era, le nostre bariste, devo dire, che sono messe molto, molto, molto bene. anche la trottolina stasera regalava un decolleté mica da ridere, però fortunatamente si era messa in jeans, perché se mi rimette, ah no, era l'altra che aveva messo i mini pantaloncini corti, trottolina di sì, di solito mette in jeans, perché è così più comodo, eccetera, però c'è il suo bel decolleté, d'altronde è trottolina, trottolina amorosa, molto amorosa, bella, bella, bionda, beato, puntini puntini, va bene, evitiamo, vaccia 21 anni, è giovane, però è maggiorenne, perché ricordatevi sempre la regola, meno che voi avete dai 18 anni in giù, problemi non ce ne sono, ma se avete dai 18 anni in su, la regola è sempre quella, sotto i 18 sono protette dalla legge, e sopra i 55-60 dalla natura, poi naturalmente c'è la regola dei 5 anni di differenza, quindi magari uno fino ai 20 anni è abbastanza tranquillo, a meno che non si fa dalle 13 anni, allora lì è a rischio, ma dai 16 in su sei, dai 20 anni in giù problemi non ce ne sono, ricordatevelo sempre, sappiate le regole, perché sennò poi succedono i casini, già succedono lo stesso, perché poi c'è sempre quella che non è vero, ma tu sei l'uomo più felice del mondo, dopo la sua nottata più felice, non vede l'ora di chiamare la fidanzata, gli arrivano i carabinieri, c'è qua una denuncia per violenza carnale, e uno dice, violenza di che? Siamo fidanzati, ero felice, ho trovato la donna della mia vita, cos'è successo? E ci fanno anche i film su queste cose qua, ne avevano fatto uno tempo fa, non so se era un film, una serie tv con l'avvocato, o l'ingegnere che era stato con una donna, felicissimo, pensava di aver trovato questa, si sveglia al mattino, lo denuncia per violenza carnale, e lui che cade dalle nuvole, e no perché ci sono, e purtroppo, e sono quelle che ahimè, poi dopo fanno inficiare le cose quando succedono purtroppo veramente, di persone che ahimè, e poi c'è sempre il solito ragionevole dubbio, lei ha detto, lui ha detto, e le prove servono a poco, e bisogna vedere a chi credere, che poi quella è anche la cosa più, credo che sia il reato più brutto che possa esistere, peggio dell'omicidio secondo me, peggio, perché uccidi una persona che, una persona resta viva, ma muore dentro, eccetera, prima che riesca, mi ricorderò sempre quella che mi disse, eravamo ancora al locale Casablanca, a Robecco sul Naviglio, quando facevo karaoke, eccetera, e c'erano due ragazzine, una più carina dell'altra, a sedicenni, quindi facevo il papà anche allora, anche se era il 1995, 96, 97 più o meno, quindi parlo ormai di 25 anni fa, quindi ero giovane, adesso sono diversamente giovane, allora ero giovane, e stavamo parlando appunto di violenza carnale, roba simile, e io gli avevo fatto una battuta, perché allora erano innamorate perse di un nostro comune amico, se lo mangiavano con gli occhi, e scherzosamente gli ho fatto, beh se ti violenta lui, non lo denunci mica, non penso che lo denunci, invece lei mi fa, no Gigi, è la cosa peggiore che chiunque sia, se una persona fa una cosa del genere, una ragazza fa la cosa peggiore che potrebbe fare, gli lascia un segno, sono rimasto male per la maturità, e la mia era solo una battuta, perché erano innamorate pazze di questo ragazzo, sembrava un po' il Lensworth, quello che fa Thor, per intenderci, quindi beato lui, io al massimo posso fare Danny DeVito un po' più alto, o Gargamella come mi chiama qualcuno, anzi dovrò andare a tagliare i capelli settimana prossima, mi dimentico sempre di chiamare la mia parrucchiera, per prendere l'appuntamento, ragazzoli, mi sono dilungato troppo, che la nottata è lunga, perché abbiamo da fare tante 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 cose adesso, anzi ho da fare, non usiamo il plurale maiestatis quando non serve, adesso vado a togliere gli scafandri, e mi preparo con la mia tutina, la mia tuta, il mio vestitino da Don Gigi, perché questa sera sono rassegnato, e ve lo dico sinceramente, io stasera per stasera sono rassegnato, perché se il buon catto dice Inter-Juventus 2, già buona se portiamo a casa un pareggio, perché è quello ogni volta che mi pronostica contro l'Inter, c'ha zecca, e quindi ormai sono preparato al peggio, quindi staremo a vedere domani sera, tra l'altro saremo circondati dagli juventini, però ciò da fare è lo stesso Don Gigi e Don Cherubino, perché ci vuole l'aiuto divino, poi bisogna anche ringraziare, perché come disse il buon Tramontana, mentre faceva la telecronaca lì di Porto Inter, lassù qualcuno ama l'Inter, quando prese la traversa al porto, disse qualcuno non la sa, eh sì, sarebbe anche ora, Comunque, niente, mi sono dilungato pure troppo, ci vediamo alla prossima, ciao!